E andiamo quindi a parlarvi degli internazionali femminili di tennis, siamo giunti alla decima edizione, quindi decimo trofeo città di Ciampino al Tennis Club Vigna Fiorita. Andiamo quindi a parlarvi, a descrivervi questo bellissimo circolo del Tennis Club Vigna Fiorita. È un centro sportivo polivalente, immerso nel verde e ai margini del territorio ciampinese. Il Tennis Club Vigna Fiorita dispone di sei campi da tennis interabattuta, tre illuminati, due campi di calcetto, una piscina di 25 metri per 12, circondata da ampi spazi attrezzati con annessa vasca per bambini, una palestra ben equipaggiata. Inoltre il circolo è dotato di servizi e comfort per i frequentatori, un ampio parcheggio interno, spazio verde per relax, spogliatoi, gazebo, biliardo e tanti altri giochi, ovviamente bar, ristorante e pizzeria. Lo sport principale al Tennis Club Vigna Fiorita è il tennis con una discreta bacheca di trofei, tra cui il titolo nazionale di Coppa Italia nel 1985. Scuola, addestramento al tennis per i ragazzi, corsi e lezioni private per adulti, per principianti e per giocatori evoluti. L'appuntamento tradizionale al Tennis Club Vigna Fiorita è il torneo internazionale femminile del circuito VTA ogni anno a settembre. E quindi attraverso questo nostro servizio andiamo a vedere come è andata. In ultima analisi vi diciamo che al Tennis Club Vigna Fiorita c'è anche il calcetto e corsi di ginnastica oltre ai centri estivi. E quindi al Tennis Club Vigna Fiorita vi portiamo subito a conoscenza del saluto del consigliere regionale del Lazio Umberto Carlo Ponzo. Colgo l'occasione dice per ricordare che è significativo per la regione Lazio sostenere iniziative e manifestazioni sportive come il città di Ciampino, che ha nei suoi scopi la valorizzazione e quello di incrementare la pratica sportiva ad ogni livello nell'area metropolitana di Roma. Dobbiamo essere grati, dice il sindaco Walter Peradini, ai dirigenti del Tennis Club Vigna Fiorita, al direttore Umberto Cetroni e al numeroso e competente pubblico che ha sempre seguito con passione ed entusiasmo questo sport profondamente radicato nella nostra città. Anche l'assessore Mauro Testa, l'assessore lo sport, la pubblica istruzione al comune di Ciampino, era presente in occasione della finale, della manifestazione. Dice, seguo sempre con grande passione questa disciplina, questo torneo, cercando di trarre utili indicazioni affinché nella nostra città il tennis sia sempre più praticato nell'ambito di un rilancio complessivo delle attività sportive a favore soprattutto dei giovani. Questo è il pensiero di Mauro Testa. E quindi Romano Sina, il presidente, il Romano Donato e Franco, voi sapete, sono tre fratelli, tre maestri di tennis. Il Romano presiede questo circolo e con grande passione dice, festeggiamo la decima volta, il compleanno di questa manifestazione, con torte fatte in casa, ci tengono Sina a ricordare sempre l'ambiente familiare, siamo certi che alla fine saremo gratificati dal sorriso di tutte le ragazze sconfitte o vincenti perché ognuna riporterà a casa il ricordo di uno, tre, cinque o sette giorni trascorsi serenamente e simpaticamente nel nostro club. Ricordiamo nelle qualificazioni la testa di serie numero uno Alessia Bertoia, quindi scendendo nel tabellone vediamo la partecipazione della Campigotto, della Mecchi che ha superato un turno e quindi della Santoni Martina, la Orsi Carolina che ha giocato con la Ponz Morghiano, una partita persa 6-4 al terzo che devo dire la Orsi poteva portare bene a casa. Ottima la prova della Bavassano che ha superato la Micheva nel primo turno, è stata sconfitta dalla Ponz. Gioia Barbieri, una ragazza molto simpatica invece, ha raggiunto le qualificazioni. Scendiamo ancora con la Gambarini, la Savoretti, la Genovese, la Fadabini, Sabatini, la Tepper, la Lapiso, ecco di Viterbo, Martina Lapiso, ha superato un turno, ha superato la Tepper 6-0, 6-3 e ha perso dalla testa di serie numero 4 la Fadabini. Scendiamo ancora con la Lombardi, Martina ha avuto una wildcard dall'organizzazione ma è stata subito bloccata. Al primo turno 6-4, 6-3 dalla Cassar. Scendiamo ancora nel tabellone, siamo con la 6, Elisa Salis, italiana 1123. La Caterina Ghedin, wildcard dall'organizzazione, ha perso, ha vinto il primo 6-3, poi è stata sconfitta 6-3, 6-1. E quindi Matera Cristina, brava anche Matera, che batte la Micaela Moroni, 7-5, 6-4, due italiane a confronto. Avanti la culova sulla Cordienco, siamo nella parte bassa, fuori l'italiana Rebecca Alessi per mano della Mezzarova. E quindi nella parte bassa abbiamo assistito all'incontro davvero molto bello con 3-7 della Marchetti che batte la Bianchi Alessia. Una tennista particolarmente brava, ma la Marchetti Giorgia 0-6, 7-5, 7-5. Una lunga partita seguita da un folto pubblico. Andiamo allora subito a dirvi che passano le qualificazioni, entrano nel tabellone principale. Ed eccoci nel tabellone principale del decimo trofeo Città di Ciampino. Le teste di serie, la numero 1 è Alice Moroni, la 2 è la Sandra Martinovic, la 3 è Lisa Sabino, 4 Anna Giulia Remondina, Paola Gigui è la 5, Stefania Chieppa la numero 6, la 7 è Valentina Sulpizio e la 8 è Martina Di Giuseppe. Vediamo come è andata, saliamo nel nostro tabellone dalla parte alta, la Moroni Alice tranquillamente supera la Bindi al primo turno, la Caciotti al secondo e viene sconfitta dalla Stefania Chieppa 2-6, 6-0, 6-2. Siamo giunti quindi alle semifinali, ma scendiamo nell'altra sezione del tabellone. Abbiamo la Salis che batte la Barbieri, quindi la Chieppa che batte la Salis e quindi una buona Stefania Chieppa, abbiamo visto alla Tennis Club Vigna Fiorita. La Sabino, la Sabino è la numero 3, la Sabino viene subito eliminata da Federica Quercia, una vera sorpresa, 512 l'italiana che non solo batte la Sabino ma supera poi la Smidova, batte la Davato Benedetta e giunge in semifinale. La partita più bella è stata proprio con la Benedetta Davato, vinta al terzo 7, 6-3, 3-6, 6-0. Questa sezione del tabellone dobbiamo anche segnalare la presenza della Valentina Sulpizio che poi ritroveremo nel tabellone di doppio, nel singolare perde dalla Pons al primo turno. Entra in scena numero 484 del mondo, Martina Di Giuseppe, testa di serie numero 8, che batte la sua compagna di allenamento Martina Caregaro. Una partita molto bella, 4-6, 7-6, 6-2 nel tie-break 7-5. Quindi una lotta davvero bellissima, la presenza anche del loro coach, il maestro Elia, Francesco Elia, che ha preso degli appunti, sono curioso di sapere che cosa ha scritto nel vedere due sue allievi, giocano tutti i giorni insieme, quindi però la Di Giuseppe ha prevalso grazie alla sua varietà di gioco e soprattutto grazie anche alla palla corta tremenda che ha infastidito non poco la Caregaro. La Di Giuseppe quindi si ferma ai quarti di finale per mano della Alexia Virgini, 6-4, 6-4. Passiamo ancora nell'altra sezione del tabellone, siamo nella parte bassa, Zanchetta Erika, che con piacere rivediamo in gara, 6-4, 7-5, sconfitta dalla Virgini, la Re Mondina, la numero 4, va avanti, viene sconfitta dalla Virgini, Alexia 6-3, 6-3. E anche la Cigui, ecco, la Cigui, 427 del mondo, testa di serie numero 5, perde da Carolina Pilot, wildcard dell'organizzazione 7-6, 6-2, 7-2, al tie-break. La Pilot supera ancora un altro turno, 7-5, 6-1, la Crei Sova, una ottima quindi Carolina Pilot, che si ferma ai quarti di finale con la Martinovic, testa di serie numero 2, la Pilot perde 6-4, 7-6. Quindi una bella torneo per Carolina Pilot, seguita da Fabio Dalpapà e dal suo coach Fabrizio Zepieri. Grazie a tutti.